Esordio vincente per Sergio Lore sulla panchina dell'Aquila, i suoi rosso-blu per l'occasione in casacca nero-verde regolano per 2-0 il penne di Fabio Iodice. La cronaca si apre al nono subito con il vantaggio dell'Aquila, pregevole lavoro di diruoco che si fa spazio, al vertice dell'area è crossa con l'esterno piede, all'altezza del secondo palo Sparvoli è chirurgico e di testa mette alle spalle di D'Amico. Al diciazzettesimo proteste del penne per un intervento ai danni di Cellucci appena fuori l'area di rigore, il direttore di gara a civili di Chieti però facendo di proseguire il gioco. Minuto 23 punizione insidiosa di Loviso, la sfera viaggia tra una selva di gambe e poi si perde sull'esterno della rete. Ancora l'Aquila alla mezz'ora transizione offensiva al culmine della quale Peicino orizzontale serve Sciba davanti alla porta, il numero 9 cicca la conclusione, ma tutto era comunque fermo per la sua posizione di fuori gioco. La prima frazione va in archivio con un tentativo del penne Fulvi in girata, non inquadra la porta difesa da Bozzi. Ripresa, subito l'Aquila propositiva punizione di Loviso, D'Amico a due mani alza sopra la traversa. Quattro giri di lancetta e gli uomini di Loret trovano il raddoppio grazie alla zampata di giustezza del capitano Scognamiglio che in proiezione offensiva non lascia scampo a D'Amico. Al minuto 21 l'Aquila un passo dal 3 a 0, il neo entrato Massetti crossa dalla destra, Sciba prende spazio a centro area e incorna scuotendola a traversa. Al venticinquesimo l'episodio che potrebbe riaprire la gara penne in proiezione offensiva dentro l'area dei padroni di casa. L'arbitro Sivilli viene richiamato dal suo primo assistente e poi estrae il rosso diretto ai danni di Scognamiglio, concedendo nel contempo anche il rigore al penne. Dal dischetto va l'ex di turno Cellucci, il quale però si fa ipnotizzare da Bozzi che disinnesca il tentativo del nove vestino e tiene l'Aquila sul doppio vantaggio. Subito dopo Di Ruocco viene strattonato da Rossi che già ammonito prende il secondo giallo e ristabilisce così la parità numerica. Infine l'ultimo sussulto del match lato l'Aquila è al 37esimo un tentativo di Colombatti che in spaccata non trova il bersaglio grosso. Finisce così buona la prima quindi in casa l'Aquila per Mister Lore che va a festeggiare con i suoi giocatori sotto la curva dei sostenitori rosso-blu.